Ciao a tutti, questa storia delle nomination rovina a tutti la vita, Giussi doveva cantare una canzone invece che ha sfidato me e Simone con cose deleterie per il nostro fisico, lui ha mangiato la cannella, Simone si è mangiato i cetrioli e l'acqua dei cetrioli, io voglio sfidarlo con la cannella e fargli vedere che io riesco a mandarla giù, niente potrà fermarmi a meno che veramente non passa un tirannosauro, mi sembra veramente una cosa assurda, ne mettiamo un altro po'.